Allora, spieghi come sta succedendo. Eh, sta succedendo che viene consegnato un cimelio, la vera giacca di Tommaso Maestrelli, quella che portava fortuna al tempo dello scudere. Massimo Maestrelli che consegna a Nello Mascia. La prima la consegna. Guardi la giacca, guardi la giacca. Bellissimo, questo è qualcosa di meraviglioso. Qui davanti il posto, con il suo consenso, caro Tommaso. Grazie, babbo. Bellissima. Questa è storica, perché questa è una verità pure l'estate. Massimo Maestrelli. Guarda, sta pure bene, sta. Guarda, è precisa. È un pezzo tuo. Eh, lo so, guarda, non c'è manco la toccarla. Perfetto. Ti sta pure bella, bella, bella. È una grande giacca, oltretutto. Eh. Senti, ma guarda, quando la mettiamo? Ha detto Elga, che non ti metti più il vestito intero, ti tieni i pantaloni inglesi. Il principe di guerra, non te lo metti.